Gli arti sulla vita, pensa un pochettino, mamma mia qui è lo che ti fa una brutta fine, mamma mia è schiacciata dal muro, vediamo Alessandro Arcangelo che si è ancora in linea oppure si è ritirato dalla scuola, lui completò la scuola, completò la scuola a grande Alessandro e poi dopo, ovviamente, ragioneria, il grande ragioniere Ugo, pensa Alessandrino, Alessandrino che ha ragionato, quante ragazze hai conosciuto, poi pensa caro Gabriele Magazzù, pensa, pensa, quindi faceva i conti bene, pensa un pochettino che Alessandro, che Alessandro, pensa un pochettino, il caro Alessandro, il caro Alessandro, guarda un pochettino qui sotto, guarda, pigliare questa cosa, ecco qua, pensa un pochettino Alessandro, ha fatto le scuole a Rimini, quindi ha fatto le scuole a Rimini, che devo fare qua? Ah, devo pompare, che devo fare? Ah, devo pompare, ah, devo prima pompare, ho capito, il palloncino e poi devo prendere gli altri palloncini e non ce l'ho fatta, a Rimini, quindi alla Riminese addirittura, perfetto, quindi ha fatto, ah, quindi bisogna pompare i palloncini premendo sotto, e quindi c'erano anche un sacco di ragazzi, ragioniere Fantozzi, bravo ragioniere Ugo, guarda un pochettino qui c'è, il lupo cattivo, ecco qua, Cicci Cagnazzi, no Cicci Cagnagni, Cicci Gnagni, il grande Cicci Cicci, penso un pochettino, il grande Cicci, chi adora è lo Cicci, sicuramente, ti piace, ti piace, caro Cicci, guarda un pochettino che cosa ti fa, se ti piace lo Cicci, metti mi piace, metti mi piace, se ti piace lo Cicci, non avere paura, caro Cicci Cagnazzi, ragazzi, ecco qua i palloncini, i palloncini, questo ci piglia a cazzotti, questo ci piglia a cazzotti, ah, in testa, attenzione che cade, attenzione, il lupo cattivo, il lupo cattivo, mamma mi cosa arriva, adesso mi butta per là, questo mi butta per là, e questo mi butta, mi butta per là, e mi butta, mi sta buttando, mi butta, mi butta, mamma Ciccio mi butta, ecco qua, ve lo ricordate quando Alessandro Arcangeli, quando Alessandro Arcangeli andava a scuola con le compagnie di scuola, le compagnie di scuola di Alessandro Arcangeli, incredibili, alla scuola troppe nozioni, troppe chiacchiere, troppe chiacchiere, poca Arcangeli, praticamente assurdo davvero, pompali si con palloncini guarda un pochettino Elochitti che arriva da te, troppe nozioni sorbono su tante cose che dovrai imparare da solo, vedi, vedi un pochettino, caro Gabriele Magazzù, perenza un pochettino, eh sì, caro Alessandro Arcangeli voleva fare anche l'amministratore di condominio, penso un pochettino, ma non stava a Rimini, e invece purtroppo non ha scelto un'altra strada, ecco qua intanto ovviamente la nostra cara Chitti, la nostra cara Chitti sta scendendo, scende, ti guarda, guarda che dice col palloncino di mamma, praticamente il grande palloncino che vola via, ecco qua guarda, fiorellini incredibili, e lei che salta praticamente, perché il gioco di Elochitti è quello che era ragazzi, dobbiamo dire la verità, gioco per Nintendo 8bit uscito solo in versione giapponese, da poco tradotto in inglese, quindi molto molto gradevole, devo dire la verità, se ti piace il gioco di Elochitti, metti mi piace, hai capito bene, metti mi piace a questo gioco, va bene signori, volevo farvelo vedere, perché mi è stato chiesto di portare il gioco di Elochitti, che sicuramente non posso che consigliarvi, soprattutto se vi piace Elochitti, va bene signori, se non siete iscritti al canale di giocherone, sapete benissimo cosa fare, YouTube e Twitch sono i principali social network del gioco di giocherone, ciao, ma che ora è il Roblox pomeriggio? Allora Francesco, oggi pomeriggio, di preciso non lo so, perché dopo sono un pochettino impegnato, quindi devo vedere anche gli impegni che ci sono durante la giornata dal punto di vista lavorativo, detto questo devo finire un piccolo lavoretto, detto questo se non siete iscritti al canale di giocherone sapete cosa fare, YouTube e Twitch sono i principali social network e gli altri trovate in box in descrizione, vi consiglio sicuramente di iscrivervi, attivare la campanella per avere tutte le notifiche e anche di abbonarvi, gli abbonati hanno incredibili migliorie, ultimamente ho inserito anche nuove emoticons dedicate agli abbonati, nonché ovviamente guardate un pochettino anche i video musicali, canzoni molto belle per ogni abbonato, detto questo nonché gli short dedicati, la pubblicità del loro canale sul mio canale, ovviamente gli avatar e loro ovviamente la loro presenza nei miei videogiochi, detto questo gli altri social network che ho trovato in box informazioni, lo sapete le carni scuole da pagna Facebook, blog e TikTok, il negozio di giocherone dove potete trovare 207 gargianti in tre varianti, c'è anche, pensate un pochettino, il link a Instant Gaming se volete comprare i giochi commerciali e in più se volete comprare i libri scritti dal gioccherone, cliccate nella descrizione del video e troverete i link ad Amazon che vi portano, e i libri che ho pubblicato io su Amazon, i miei libri, che potete leggere gratuitamente se avete Amazon Cardinal Limited. Gabriele Magazzù dice ok, Gabriele Magazzù quando fa Fortinatte? Appena faccio l'aggiornamento Gabriele, quindi o stasera o oggi pomeriggio ma molto sul tardi. Ragazzi 5 minuti pausa e torno di nuovo con voi, il gioccherone non vi abbandona mai, ciao! E' bello e lo eviti, eh?